Sono quattro i gestori di sale slot e sale scommesse denunciati alla procura della Repubblica di Palmi dopo controlli effettuati dai carabinieri nei comuni di Cinque Frondi, Cittanova, Polistena e Taurianova. Per due dei quattro gestori all'interno dei loro punti scommesse sono state trovate videolotteri non collegate alla rete statale gestita dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Gli investigatori ritengono sia stato aggirato il controllo dell'Agenzia attraverso l'alterazione di alcune componenti informatiche. al fine di evadere i tributi dovuti in materia di scommesse. Altri controlli hanno interessato altre sei sale scommesse, i cui titolari sono stati sanzionati amministrativamente per un importo totale di 35 mila euro per illeciti legati al testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza. Le violazioni in materia di scommesse sportive online e videolotteri non autorizzate non garantirebbero il rispetto delle norme a tutela del gioco lecito e responsabile.